La Costellazione di Pegaso Rivolgendoci verso nord brilla Cassiopea dall'inconfondibile formua W, seguita da Perseo. Sopra l'orizzonte est sorgono i brillanti estri invernali. Il toro e l'auriga seguite dai gemelli e da orione. Sopra l'orizzonte ovest, dopo averci accompagnato per l'intera estate, ormai declinano le costellazioni del Cigno, della Lire e dell'Aquila. A nord la grande orsa sfiora l'orizzonte mentre il drago avvolge sinuoso la piccola orsa. Protagonista assoluto delle notti di novembre sarà Giove. Il grande pianeta è facile da rintracciare tra le stelle del toro essendo l'astro più luminoso del cielo serale. Nel cielo mattutino, prima dell'alba, sopra l'orizzonte est brillerà luminosa venere, seguita dal più fiocco soturno e da fine lese dall'elusivo mercurio. Musica Grazie a tutti